Siamo contento per il rigore perché da forza al nostro gruppo dei portieri un po' di rabbia per la sconfitta perché venivamo da una sconfitta pesante e oggi volevamo dare una svolta, purtroppo non ci siamo riusciti e pensiamo subito alla prossima. C'è tanta rabbia e vogliamo dare subito una svolta a questo trend negativo e lavoriamo in settimana per farlo subito col suo tiro.